Lo scorso della linea di energia, il primo montaggio, la prima selezione, avevamo quasi 4 volte, avevamo, e a quel punto non sapevamo, per cui era semplice che pesce migliare, per cui questa si potrebbe definire una sintesi d'autore, nel senso che è arrivato a un certo momento, ogni, in qualche modo, ha avuto un momento di crisi, come è normale, che sia. Pronto? Dicevo, ha avuto un momento di crisi, ed è stato quello il momento in cui io personalmente è che lo avevo guidato, quantomeno essendo giovane, quindi non avendo vissuto la storia dei filistudici, comunque, che Tony appartiene alla generazione del terzo interno, cioè lui ha frequentato i filistudici a partire dal 2000 e ha visto tutte le assegne, diciamo, antologiche che sono state fatte nel 2010, e a quel punto io l'ho calato e l'ho fatto fare davanti e indietro, davanti e indietro, tra 67 e 12, in infinità di volte, poi ho capito che dovevo fare un passo indietro, a quel punto gli ho detto, vai dove ti porto il cuore, ecco, e lui ha realizzato questo documentario che potete vedere. Tra l'altro, insomma, io l'avevo già visto, ma rivedendolo ancora di più mi ha colpito anche in qualche modo l'involuto stile sperimentale che si avvicina un po' anche alle cose di Griffith, di Baruchello, tutte le cose che avete fatto vedere. E infatti ti chiedo, ma questo a questo punto è un film, un documentario, perché è giusto che vada in sala o gire per i cineclubs di tutta la vita? Allora, ecco, per esempio, io sottolineo in questa situazione che il documentario dovrebbe essere editato come un video da raro video, dovrebbe. Allora, io mi sono riservato, io film studio e Madcast, che, diciamo, è l'altra piccola produzione che ha dato una mano decisiva alla realizzazione del documentario, mi sono riservato la distribuzione nei cinema e soprattutto nelle scuole di cinema, nei film club, nei cineclubs, presso associazioni culturali, verso spazi attrezzati, perché so perfettamente che questo è un documentario che può dare spunto e può offrire, diciamo, la possibilità di, non solo di parlare di studio, ma di parlare di cinema. Io volevo chiedervi, adesso facciamo un giro, insomma, ben o male voi siete registi, documentalisti, operatori culturali, esercenti, insomma, e anche un po' tutto insieme, ma alla luce di quello che ci siamo detti prima della proiezione del film, cioè oggi nel momento in cui sulla rete possiamo trovare anche i film più rari, più trovabili, che veramente fino a dieci anni fa si sarebbe dovuto aggirare in qualche modo, non un film studio, ma tutti i film studio in Italia per cercare alcune cose veramente improbabili, e adesso con un click, tutto quello che abbiamo visto, io ho quasi tutto trovato in rete, tra l'altro, per dire, e con il fatto che, quasi tutto, e con il fatto che molte cose, in qualche modo, molti punti di incontro sono anche virtuali, molti punti di riflessione sul cinema. Mi chiedo, oggi, diciamo, un luogo come il film studio, ma come anche, come era il labirinto, come oggi il lavoro 11, qual è in qualche modo la caratteristica, l'elemento aggiuntivo di forza, l'attrattiva culturale in più che deve avere rispetto a questa apparente virtualità in cui possiamo trovare e parlare di tutto, iniziamo dall'animo. Mamma mia, che domanda difficile. Intanto, sai, c'è qualcosa di incredibile, no? Perché in questo film io ho ritrovato la mia storia, no? Ma anche, se sembra tutto lontano, invece, improvvisamente, no? Dal titolo, che è... Ho chiesto di Mon Amour, io a Torino, insieme a Steve Della Casa, gestori di un cine club, un movie club, no? Cresciò insieme, fondavo un locale di rock, di teatro, di video, che si chiamava Hiroshima Mon Amour, per esempio. Mi ritrovo dentro un anno di Moretti, che è stato il mio primo produttore di cinema di fiction, oltre che attore del mio film, mi ritrovò Griffi, che fu forse il primo cineasta che incontrai quando venne a Roma, con un documentario sulla film, no? E Griffi mi stava ad ascoltare, nonostante mi considerassi un po' un piccolo borghese, come se la Mercedes, come se la capitalismo, sarei finito malissimo, diceva lui, no? Poi ti avrebbero messo in questo modo un circuito, così. Poi intanto guardava il mio documentario, mi faceva vedere le sue macchie, costruiva nel suo laboratorio, no? E per dire, appunto, io per vedere Anna, ho dovuto andare da lui, perché non si controlla il modo di vederlo in nessun modo, ed era un film mitico per me, quando ne sentiva parlare, avrei voluto vederlo in tutti i modi, in tutte le maniere, no? Quindi voglio dire, è un film che ci riguarda, ma è molto interessante perché è un film che riguarda oggi, cioè se fate delle belle domande sull'oggi, devo dire che questo è molto interessante, cioè come noi vediamo il cinema, che cos'è il cinema, mi sembra che Bernardo Bertucci ha molta tranquillità, dice che tutto si trasforma, andrà da un'altra parte, la fine del piano, Sì, sembra dall'altra parte, chissà, forse non lo sapremo neanche noi dove andremo a finire. Di sicuro, come dire, ci può sentire solo una cosa, che oggi c'è questo film, che riusciamo a vederlo qua, che è andato al Festival di Roma, no? Però è già qualcosa, questa confusione che ci attanaglia la latina a sera, no? E c'è qualcosa il fatto che Armando io incontro tutte le mattine, praticamente, quando sono a Roma, perché ho un lavoro, eccetera, da giornalai, ci scambiamo due parole sulla vita e sul cinema, no? E intanto abbiamo un mondo irreale, vince per la realtà, con i rapporti fatti su internet, eccetera. Quindi voglio dire, la verità è che per noi, quello che succederà, il futuro, le cose, eccetera, non ci resta che affrontarlo, come dice il Trino dei Bernardi, no? Dobbiamo essere, e lo spirito di questo film non è assolutamente avanguardia sempre, dobbiamo via dall'avanguardia, e tipo una cosa incredibile, io a Torino ho cominciato con il Trino dei Bernardi, andando a riprendere a scuola, perché lui insegnava e faceva i film d'avanguardia, che io non capivo allora, no? Poi sono andato a girarmi, poi ho vinto un festival, perché allora si chiama Festival Cinema Giovanni di Torino, in questo piccolo documentario, sapete anche come chiamarlo, e in questo momento, come in questo momento, mi ritrovo a Estas, in questo momento a produrre il prossimo film di Trino dei Bernardi, no? E quindi, come dire, alla fine il cinema e il mondo, no? Cioè, io a fondo da spettatore dei film del film studio, mi ritrovo a viverlo, no? Il cinema. E quindi, quando parliamo di dove andremo a finire, cosa facciamo, forse il più saggio è sempre Nani Moretti, no? Che, come dire, ci sa fare, no? No, noi siamo occupati di se stesso, no? Di come vuole vedere i film e come gli piace vedere. Forse questo è un grande insegnamento per tutti noi. C'è qualcuno che piace vedere se lì sul telefonino bene, c'è qualcun altro che viene sui tablet, qualcuno se li faccia la casa. Nani gli piace andare a vedere nel cinema, perfetto. Questa sera che sono felice di essere tutto qua da casa a piedi e avere una sala, così vicino a casa, e insomma la vita va avanti. Questo è importante. Senti Luca, invece sia da spettatore, da giovane regista, appunto ai tempi del film studio, ma anche da studioso in qualche modo del fenomeno cinematografico, come devi tu un ulteriore passaggio? Cosa c'era prima del film studio, invece perché appunto parliamo del 67 e poi degli anni 70, ma chi avesse voluto cercare un film d'autore come avrebbe dovuto fare fino a quel momento? Sono tante domande. Cosa in qualche modo vedi come prossima evoluzione di questo ciclo, in qualche modo della visione? Dunque, fino agli anni 60, fino agli primi anni 60, quello che si sapeva, quello che si poteva immaginare fosse il cinema sperimentale, lo si poteva desumere soltanto da certi cicli che facevano la cineteca nazionale o il planetario, per esempio. nel planetario si faceva il centro sperimentale, organizzava dei cicli sui registi del muto, sui registi degli anni sperimentali, anche negli anni 20, come Hans Richter, per esempio fu visto per la prima volta al planetario, adesso è sede del Museo Nazionale Romano, ma nelle termine di Diocleziano, ma allora c'era appunto questa possibilità. Il film studio ebbe il grande merito di coagulare tutte queste spinte, questi interessi verso la sperimentazione, verso il cinema alternativo a quello industriale, in una formula assolutamente vincente e azzeccata, e questo fu il grande merito di Sbardella e Armando, e Annabella di Scuglio, tu sei arrivato dopo, sì è vero, ma insomma il grande merito di equalizzare tutti gli interessi verso il cinema di sperimentazione che prima erano dispersi per la città, un po' il planetario, come dicevo, un po' alcune visioni organizzate dall'università, così un po' sperimentalmente negli anni 60, però il film studio lo faceva con una formula vincente, perché era una formula aggiornata, convincente, dove coagulava intorno a sé tutti gli artisti e tutti i cineasti, e non solo i cineasti, ho detto appositamente agli artisti, perché la forza del film studio è stata quella di dimostrare che il cinema è per antonomasia un'arte interdisciplinare, e lì si è potuto capire benissimo, con il coraggio di quella programmazione, che il cinema poteva essere qualcosa di diverso dalla visione industriale, o che si poteva usufruire soltanto nelle sale cinematografico e con il cinema cosiddetto industriale. Era un'oasi alternativa, un campo di sperimentazione che coagulava tutti coloro i quali vedevano nel cinema non soltanto un discorso codificato dall'industria, ma come campo di sperimentazione interdisciplinarietà con le arti visive. E infatti, il grande merito del film studio è stato quello che attrava l'interesse dei grandi artisti proprio della fine degli anni Sessanta come Schifano, come Andy Warhol, come Baruchello, come Luca Patella, ma questi non erano prettamente solo dei cineasti lontani, certo, ne escono, questi non erano dei cineasti to cure, erano degli artisti che operavano nel mondo dell'arte contemporanea. Quindi questa fusione tra arte-cinema come campo d'azione dell'arte cosiddetta visuale, delle arti visuali, ecco, ebbe nel film studio una formidabile rappresentazione, una sintesi, una sintesi formidabile, ecco, per questo voglio dire. Poi, infatti, Schifano, che fra l'altro abitava, aveva un studio proprio lì accanto a voi, in via delle Mantellate, era un frequentatore abituale. Luca Patella è uno straordinario artista che io ho conosciuto lì, proprio al film studio, ma a lui interessava, a lui furono, il film studio gettò per primo un punte tra il cinema e le arti visite. Ecco questo.